Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare, per quanto non ha bisogno ormai di presentazioni, l'ultima torcia, gioco di ruolo fantasy old school a cura della Serpentarium e ringrazio veramente di cuore Matteo Cortini e Leonardo Moretti per avermi offerto una copia omaggio nell'ultimo Lucca Comics and Games. E' un gioco che avevo addocchiato da molto tempo, poi ovviamente della Serpentarium che sono gli autori, io l'ho sempre detto, del mio GDR preferito in generale che è Sine Requie, l'ho sempre adorato, poi lo metto anche accanto a tanti altri capolabori tipo La Legenda dei Cinque Anelli, Cyberpunk, però da amante degli zombie c'ho scritto anche un romanzo che è uscito su Amazon e soprattutto della Seconda Guerra Mondiale per me Sine Requie è stato il boom, tra l'altro mi è piaciuta anche da morire l'ambientazione. E questo ultima torcia è il loro progetto che ci porta nel, se non erano vorrei dire una cavolata mi sembra il loro primo progetto fantasy che ci ributta un po' agli albori appunto del vecchio GDR come poteva essere la prima edizione di D&D. Infatti se vedete, vi ricordate la scatola rossa di Dungeons & Dragons, i GDR come venivano venduti al tempo, che era una cosa che a me piaceva veramente da morire, non erano a manuali come li hanno fatti nelle vecchie edizioni, l'Advanced oppure semplicemente anche la terza edizione di D&D, ecco quella che mi viene più in mente. Ora siamo abituati a comprare un GDR negli anni che sono venuti poi dopo il boom di D&D in cui compri il manuale del giocatore a parte, il manuale del Dungeon Master a parte, ma il primo Dungeon & Dragons era quella scatola rossa che quando l'andavate ad aprire dentro all'interno c'era tutto, c'era il manuale del giocatore, il manuale del Master, per quanto avesse bisogno anche di poca roba, il vecchio D&D non c'erano tutte le cose montate dietro come vennero poi successivamente e magari ci mettevano anche un po' di schede già stampate, quindi te le prendevi e iniziavi a giocare e addirittura i dadi, perché comunque anche i dadi è qualcosa che bisogna comprare, perché un dado da 6 chiunque ce l'è in casa, per magari per giochi, non lo so, potrebbero essere monopoli o cose varie, però non tutti ci hanno un dado da 10, un dado da 8, un dado da 4 nei vari tagli, mentre loro invece dentro questa scatola ce l'hanno messi tutti come la poi vi farò vedere. E mi è piaciuto veramente da morire perché è un gioco basico, poi il reso conto ve lo dico alla fine, però che ti ributta indietro, infatti è preso con la concezione del vecchio di indie, ti ributta indietro a una ventina, trentina di anni fa, come i vecchi giochi old school insegnano. E infatti questa è una cosa che sto cercando molto nei GDR perché un po' il fantasy dopo 37 anni, un po' stantio, un pochino mi aveva annoiato. Il fantasy, quello ve l'ho detto, molto costruito perché per me il fantasy dopo Tolkien c'è ben poco da raccontare, oppure inventarsi qualcosa che già non abbia fatto lui, per quanto poi a tantissime ambientazioni hanno creato veramente delle cose molto credibili. The Witcher ad esempio, però era difficile per me iniziare a giocare un po' di ruolo con un fantasy, appunto che non fosse un cyberpunk o un'altra ambientazione sci-fi. E loro ci sono riusciti e sto cercando soprattutto giochi old school. E ora vi faccio vedere perché mi è piaciuto così tanto. Unboxing, questa è la copertina, vedete la scatola, l'ultima torcia, a cura di Matteo, Kurt e Cortini e Leonardo Moro Moretti, che sono i due autori di questo gioco e di tutti gli altri, praticamente, della Serpentarium, che se non erro un tempo si chiamavano Rose and Poison, forse no, scusate, forse era il vecchio editore Rose and Poison, comunque. Questo è il gioco, l'ultima torcia, che poi hanno preso il nome, che si ispira un po' l'ultima torcia, se vogliamo, perché uno vede una scatola del genere. L'ultima torcia, viene anche un po' in mente un bonfire tipo di Dark Souls o qualcosa del genere, ma, soprattutto, ci rimanda ai vecchi albori, appunto, ho detto, del fantasy, cosa vedete nella copertina? Il dungeon, con forse un tesoro da trovare, una cripta, una tomba di un antico eroe, un chierico, vedete, un guerriero e qua giù dietro un drago. Perché poi, ve l'ho detto, negli anni siamo andati molto a costruire ambientazioni articolate, gli elfi che hanno 12 razzi diverse e 150 regni, ma il gioco fantasy era bello, come dico sempre, all'Aeroquest, dove c'era il barbaro, che era quello grosso, tipo Conan con la spada a due mani, il nano era quello basso con l'ascia a due mani o lo scudo. A me piacciono ambientazioni così, piacciono ambientazioni veloci, che ti rimangono facilmente in testa e non ambientazioni come la terra di mezzo, senza offesa, mi garba da morire, però parlo del GDR, dove ci sono 190.000 nomi e non ti rimangono in testa, nemmeno, se tutte le volte devi andare ad aprire il manuale, come si chiamava sto posto? E questo? Ma gli elfi quelli neri erano di qui, gli elfi quelli gialli di qua. Già, io vado fuori di testa. Apriamo. Come vi dicevo, fare un gioco di ruolo che rimandi al vecchio D&D prima edizione, va anche fatto in scatolate, impaginato in una certa maniera. Infatti vedete la scatola, com'era il box rosso, che l'hanno rifatto ora tra l'altro con il demo gorgone di Stranger Things, molto avvelino, lo voglio, e con tutti i manuali essenziali per giocare dentro. Praticamente voi vi comprate questa scatola qui, la comprate e l'aprite e dentro avete già tutto l'essenziale per giocare. Quindi l'unica cosa che magari ci manca sono le schede, ma uno le schede è talmente semplice, o la fa vedere. O se la fa su un foletto di carta, o se la stampa. Un lapis e basta. Ci sono anche tutti i dadi nei vari tagli, il dado da 8, il dado da 10, il dado da 12, perché questo gioco utilizza solo il dado da 10 per le prove, come vi farò vedere, però magari ogni tipo di arma, ogni tipo di incantesimo hanno anche altri vari dadi di effetto. Comunque per i combattimenti e tutto, il tiro è sempre solo il dado da 10. E all'interno abbiamo il regolamento, che fra regolamento, sono in tutto tre manuali, che l'ultimo è quello da Meditazione Avventure, fra tre manuali arriveranno sulle 140-150 pagine, e uno potrebbe dire, eh ma il materiale è poco, no no no, è spiegato veramente benissimo. Il regolamento di gioco, che è veramente facilissimo, una cavolata, il regolamento più facile che ho mai visto in vita mia, ma che funziona bene. Per quello che deve fare lo fa molto 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 bene, ora poi ve lo faccio vedere nel dettaglio. Il bestiario della Baronia del Grifone, che praticamente la Baronia del Grifone è la mappa di gioco dove vi muoverete nelle vostre avventure. Ovviamente sono già usciti anche altri supplementi, terre selvagge e cose varie, non è ambientato soltanto in questa di tutto il mondo, in quella Baronia lì, sarebbe poco, per quanto è immensa, eh, c'è veramente di tutto, vi basta farci una campagna intera. Però ovviamente nella scatola base c'è solamente questa Baronia, e qui c'è il bestiario con tutti i mostri. Si passa poi alla Baronia del Grifone, che invece è proprio il manuale dell'ambientazione, dove quello di prima erano un po' di regole del Dungeon Master e soprattutto i mostri, quest'altro qui invece è proprio il manuale d'ambientazione, e tra l'altro dietro c'è anche la mappa della Baronia del Grifone, che vedete che è molto caratteristica, non è immensa, ok? Però insomma, è una mappa della Contea del Senio degli Anelli come dimensione, quindi, oppure anche la costa della spada dei Forgotten, posti per giocare, ce ne è tanti e praticamente varia. È bella perché si passa dalla classica ambientazione delle miniere, con dentro i prigionieri, i nani, quindi dove ci possono essere draghi, oppure una città principale come la città del Grifone, dove c'è il dislivello fra ricchi e poveri, il bosco bianco dove c'è la dimora della regina degli elfi, insomma c'è, oppure il bosco nero infestato da orchi e goblin, c'è tutto, è la classica ambientazione dove chiunque si diverte e ci ritrova tutti i canoni classici del fantasy. Un'avventura tutorial, molto bellina, non serve nemmeno a regge e regolamento, questa è la classica avventura, apri la scatola e inizi a giocare. Leggete quello che c'è scritto, è un'avventurina tra l'altro bellina, perché nel manuale La Baronia del Grifone ci sono andate 5 o 6 avventure che sono tutte quante collegate in una specie di mini campagna che vi fa muovere per tutta l'ammettazione, quindi fidatevi, giocate questa all'inizio che è anche bellina, e poi un po' di schede dei personaggi precompilate, quindi personaggi già fatti, per iniziare a muoversi subito, quindi direttamente ne potete scegliere uno di questi o anche perché no potete usarlo come fonte di ispirazione o anche semplicemente per vedere come si compila una scheda. Il regolamento è veramente molto semplice, tra l'altro i disegni che ci sono dentro sono molto caratteristici e vi ho detto rimandano al primo Dungeon & Dragons, perché è un'ambientazione facile dove le razze giocabili soltanto nell'edizione questa qui e nel core box sono nano, elfo e umano, ovviamente, laggiù dove gli erpi sono quelli alti, altezzosi, che conoscono bene la magia e non si fidano di nessuno, i nani sono quelli avidi, grandi forgiatori, vivano sotto le montagne, e gli umani sono quelli che praticamente hanno accettato i nuovi anelli, no, ora a parte lo scherzo e tutto, sono quelli la nazione, comunque la razza più volubile e sono quelli che si fanno più di tutti a soggettare al potere, che desiderano addentemente avere più potere, più territorio e cose varie. Quindi c'è sempre il concetto razze antiche, nani e elfi, che tra l'altro tra di loro non si possono vedere nel più classico degli stili fantasy, e gli umani nel mezzo a fare il bel e cattivo tempo. E come, a parte, come regolamento, veramente i disegni sono fatti da paura, è impaginato bene, non ci ho trovato errori di nessuna sorta, e una cosa che adoro, e gli faccio un complimento a tutti e due gli autori, una cosa che adoro, l'ho sempre detto anche in giochi come Zombicide, ad esempio, dell'Akmon portati da Asmode, o altri giochi vari, manuali vari, dove, accanto al regolamento, mi ci mettono un esempio, ragazzi, è importantissimo. Ora, sono un ignorante, non voglio insegnare il mestiere a nessuno, però, se mi scrivi 300 regole, non mi rimangono in testa, ma se mi metti un esempio scritto in prima persona, mi scicallo di più, ad esempio, il guerriero andò avanti con la spada, attaccò lo scheletro e tirò un D10 più 1. Magari lo devo leggere tre volte nella regola, oppure mi salta, però se leggo nell'esempio, magari lo raffiguro con quel combattimento, con lo scheletro, e mi rimane anche più facilmente in testa. Quindi, queste note qui sono una cosa che ho apprezzato da morire, perché aiutano molto nell'intento. Poi, vabbè, vedete, ovviamente, diviso in capitoli, i disegni sono bellissimi, lo stile mi garba veramente da morire, e poi qui, vedete, c'è Leonardo, gli stessi autori, che in delle piccole note ci danno dei consigli, tipo a volte, vedi il Kurt che scrive, siate pronti a morire, siate pronti a perdere il personaggio, se, ad esempio, una regola, perché questo è un gioco dove la mortalità è abbastanza alta. Ora, nessun Master si sognerebbe di far morire tutto il gruppo, perché se no finisce l'avventura, ragazzi, tutti a casa, guardiamoci un film horror e buonanotte. Non lo farebbe nessuno. Però è un gioco dove lo stesso Kurt, uno dei due autori, ci consiglia, se un tiro di dado, che è il D10, va male, e quindi il tuo personaggio ci deve morire, non lo ritirate, non è il Master? Va bene, annulliamolo, dai, rifacciamo un altro tiro, vediamo un po', no, devi morire. Io sono d'accordissimo col Kurt, perché se è andato un tiro del genere male, fa anche parte dell'avventura, fa anche parte della storia, fa anche parte dell'insegnamento che ti devi prendere, perché un gioco di ruolo è anche alla fine insegnamento. Se in qualcosa ti è andato male, devi essere abbastanza sicuro di quello che hai fatto, immagazzinare bene questo errore e non rifarlo nella prossima avventura. Se ci ha perso un personaggio perché hai fatto una cavolata, è bene che tu ci vada a sbattere la testa e la prossima volta ci stia attento. Poi ovviamente il Master deve sempre un attimino cercare di mediare queste cose, però se un tiro va male, un tiro va male, è inutile starla a ritirare o chiudere gli occhi e far finta che non sia successo. Se devi morire, devi morire. E vi dicevo, ora vi faccio vedere un pochino il regolamento così veloce, qui ad esempio è la tabella delle armi. Le armi vengono divise per, vi faccio un esempio, la lancia, vedete qui, oppure arma pesante, le armi a due mani, arma piccola, pugnali e cose varie, e arma media tipo armi a una mano, accette, spade e cose del genere. Prendendo l'esempio la lancia, vedete che ogni arma ha un dado che tira di danno più una caratteristica chiave, che serve ovviamente per incrementare il danno. Ad esempio la lancia va su forza e poi accanto hanno delle abilità, tra molte virgolette, che è tipo lancia, ti dice CAC, quindi arma da corpo a corpo unicamente, oppure può essere tirata, visto che una lancia la tiri, a distanza di 20 metri. Poi ovviamente le armi ci sono anche in varianti, che una che costa 130, col costo in fiorini, e una che costa 65, quindi una che ha un valore più alto, una che ha un costo appunto più basso. E la stessa cosa le armi invece, tipo quelle che ci hanno scritto ROT, qua giù, che sono armi rudimentali, che costano pochissimo, fanno comunque danno bene o male come le altre, ma ogni volta che la tirerete dovete fare anche un tiro di dado, perché l'arma si potrebbe rompere. E il sistema del gioco è molto facile, vi faccio vedere la magia è lo stesso, quindi anche gli incantesimi, si tirano sempre i soliti dadi, e si guarda il risultato. Vi voglio far vedere una cosa veloce, perché vedete creazioni del personaggio, le razze che ci sono in gioco sono Elfo, tutta quanta la descrizione, il bonus salute, il bonus mana, perché in questo gioco l'hanno fatto bellino, ci rimanda anche un po' al vecchio Diablo, o comunque i giochi che sono usciti in quell'anno, in quegli anni lì insieme a D&D, dove c'era la salute, era quella boccetta rossa, e il mana era la boccetta blu. Ragazzi, sono cavolate, magari uno lo vede oggi e dice, ma cos'è sta boiata? Però uno che ci è cresciuto con questa roba, cioè veramente, fare un'avventura all'ultima torcia, rispetto a che ad altri giochi, ti ributta indietro di 30 anni e ti fa sentire un ragazzino, e non è una cosa facile, veramente, secondo me. Poi, il nano e l'umano, fine delle razze, per ora, poi ovviamente in altri manuali, non l'ho letto, ma penso che sarà altra roba, e poi per andare avanti, nelle classi, no, il guerriero, il ladro, ah non c'è limitazione, non c'è limitazione, volete fare il nano mago? Lo potete fare, però ovviamente il nano come razza, ha un malus alla magia, però lo potete fare, non c'è limitazione come nell'Advanced Dungeons & Dragons, che ad esempio il nano e il mago non lo potevano fare, no, no, si può fare, poi c'è il ranger, che evoca ovviamente creature fatate, che prendono le sembianze di animali, il chierico, e lo stregone, che qui l'hanno voluto raffigurare come un elfo con l'arco, però ci sta, perché alla fin fine anch'io avevo un mago elfo con l'arco, infatti mi sembrava un mio vecchio personaggio, Mordecai, quando giocavo a D&D, e ci sta ecco come raffigurazione di un elfo, un mago, soprattutto uno stregone particolare, il regolamento del gioco si basa tutto quanto sul tiro di un D10, all'inizio dell'avventura andate a creare il vostro personaggio, che ora io vi prendo una scheda a caso, e ve la metto qui davanti, andate a creare il personaggio, che è, creare la scheda è una cavolata, ci scrivete ovviamente sono, il nome del personaggio, un, quindi cosa, un elfo ranger, un elfo stregone, un nano, un guerriere, cose del genere, dovete scegliere un pregio, all'inizio, che il pregio non lo scegliete, ma tirate un dado da 10, e sulla tabella dei pregi vedete cosa vi è venuto fuori, che ora poi infatti ve lo spiego, e poi ci sono tutte quante le caratteristiche, che a differenza degli altri giochi di ruolo, non dovete tirare, in questo gioco ogni caratteristica ha un D di partenza, quindi è sempre solo un dado da 10, gli altri dadi del gioco, si tirano unicamente per le armi, quindi, o per gli incantesimi, quindi all'inizio tutti avete un dado in tutte le caratteristiche, più avete un dado aggiuntivo, se magari, che ne so, la vostra razza che avete scelto, o la classe che avete scelto, magari, che ne so, lo stregone vi dà un dado in più a magia, quindi non avrete più un dado, ma avrete due dadi, e in più tutti i bonus, che sono i vari più che vedete qui accanto, o meno, che vi danno la razza che avete scelto, ad esempio, l'elfo ha meno una forza, essendo gracilino, e anche meno due a socialità, perché non sono tanto charmanti, poi in più c'è il pregio, che il pregio vi dà questa stellina, che vedete qui accanto, il pregio si tira, non lo potete scegliere, che se no, grazie, un guerriero sceglierebbe magari la forza per combattere, si tira e magari viene fuori coraggio, te sei stato il figlio di un grande condottiero, nel background, oppure, a un guerriero potrebbe venire fuori magia, cioè, per cosa assurda, questo guerriero ha il pregio in magia, che magari non utilizzerà quasi mai, perché ha deciso di fare il guerriero, ma di partenza era il figlio di una famiglia di maghi, di un grande stregone, o una cosa del genere, poi ci sono le abilità di razza, se uno è della razza che sceglierete, ci avrete l'abilità, le abilità del ruolo, quindi della classe che avete scelto, sono sei abilità, per ogni classe, e ne potete scegliere una solo di partenza, e poi ne potete scegliere una, ogni volta che guadagnerete, passerete di livello, quindi quando avrete fatto abbastanza punti avventura, potrete spenderli per comprare nuove abilità, e poi ovviamente l'armatura, tutti i personaggi hanno armatura 2 di base, tutti, cioè la resistenza fisica insomma, non è che per forza un colpo deve passare, prenderti un organo, però ovviamente valore che può essere alzato di più 1, più 2, più 3, più 4, più 6, a seconda dell'armatura che avrete, la salute, che la salute è sempre data dalla classe e dalla razza, anche qui, il mana, che serve per tirare incantesimi, ogni volta che un personaggio tirano incantesimi, almeno che non sia una bacchetta o cose del genere, scartate un punto mana, e poi tutto il resto, fiorini, i soldi che ha, i punti avventura, che sono i punti esperienza, e tutto quanto all'equipaggiamento e alle note, quindi vedete anche come scheda, tanto non c'è niente dietro, è molto classica, veloce, e si fa in 2 secondi, e il regolamento di gioco, vuole semplicemente, il tiro di un dado da 10, facciamo un esempio, questo nostro elfo qui, l'elfo ranger, vuole combattere tirando una freccia, le frecce, stranamente comunque, non si tirano con agilità, agilità serve per, parare un colpo, schivare e cose del genere, si tirano su percezione, quindi l'elfo ovviamente al bonus, più il ranger al bonus, e magari, gli è venuto fuori anche il più 1, perché il più 1, vi ricordo, ve lo danno, o la razza o la classe, facciamo conto che lui, vuole attaccare uno scheletro, tirando appunto su, con l'arco, quindi andiamo a tirare, i due dadi da 10, più 1 di percezione, in questo gioco, tirate quanti dadi, la caratteristica, ma dovete sempre solo tenerne 1, quindi il risultato maggiore, con una regola a parte, che poi vi dirò, dovete soltanto tenere il maggiore, quindi ne tiro 2, faccio, questo è venuto 1, questo è venuto 2, poi a sfiga disumana, ovviamente fra l'1 e il 2, mi tengo il 2, 2 di percezione, più 1 fa 3, quindi avevo fatto 3 come risultato, quanto c'ha di armatura, lo scheletro, lo scheletro c'ha di armatura, che lo trovi 2, l'ho colpito, se voi eguagliate, o superate la difesa, l'armatura del nemico, l'avete colpito, se fate meno ovviamente no, ora io ho colpito lo scheletro, nel caso lo scheletro non abbia uno scudo, verrà colpito, e andremo a vedere i danni dell'arco, che ne so, 2 di 6, più 1, 1 di 6, tiriamo, e vediamo quanto viene, ah, tutto, tutto, nel gioco, se vi dice tirate 3 di 6, non è che li dovete sommare, si tiene sempre solo un dado, sia per i danni, che per le prove, ok, quindi se anche una prova, scusate, anche se un danno vi dice, tirate 3 di 6, voi ne dovete tirare 3, ma dovete tenere sempre solo il maggiore, è uno soltanto che si tiene, quindi ho superato la difesa dello scheletro, che poi vale anche per l'attacco a un altro giocatore, lo scheletro ora potrebbe parare, nel caso avesse uno scudo, se non ce l'ha invece prendere al corpo, nel caso avesse uno scudo, lo scheletro dovrebbe fare un tiro di agilità, col suo modificatore, facciamo conto che lo scheletro ha un di 6, quindi tira, scusate, mettiamo conto che lo scheletro abbia un di 10, tira, li viene fuori uno, boia, c'ho uno scudo totale con i dadi, quindi dovrebbe, per parare il colpo, eguagliare o superare, la prova che ha fatto precedentemente l'elfo per colpirla, vi ricordate ha fatto 3 in tutto, lo scheletro ha fatto uno, quindi non ce l'ha fatta parare il colpo, e la freccia lo prende, stessa cosa con i giocatori, uguale ed entico, se un mostro attacca un giocatore, la difficoltà che avrà il giocatore per salvarsi tirando sua agilità, sarà l'ultimo valore che ha fatto il mostro, quindi se il mostro per attaccare ti ha fatto un 8, te per pararti dovrai fare un 8 o più, quindi tirando il dado da 10 e sommando, o il dado o i dadi da 10, prendendo il maggiore e sommando il tuo modificatore, se no praticamente, se ti colpisce, si fa il tiro dei dadi e scali salute, come D&D, quando si arriva a 0 il personaggio è svenuto, quando si arriva a meno 5 il personaggio è morto, una caratteristica con il pregio, a questo ilfo gli è venuto il coraggio, vuol dire che quando andrete a fare una prova di coraggio, quindi qualcosa che vi richiederà di fare un tiro di coraggio, potrete ritirare tutti i dadi, che fare tutti i risultati che verranno 1 o 2, quindi mettiamo caso, io tiro i due dadi, il primo mi viene 8, il secondo mi viene 1, questo 1 lo posso ritirare, quindi è buona questa cosa qui, averci il pregio perché mi consente, dopo aver fallito una prova e tutto quanto, dico eh però in 1 ho fatto 2, in 1 ho fatto 1, poi ho fatto veramente schifo, però aspetta, sia il 2 che l'1 li posso ritirare, quindi potete scegliere se ritirarli tutti quanti, o ritirarne soltanto 1 a caso, ed è una cosa molto buona perché, insomma, a un guerriero che gli viene il pregio in forza, sarà un combattente veramente da paura, ha avuto anche tanta fortuna, ma è giusto, perché è qualcuno specializzato nel combattimento, il regolamento ragazzi è tutto qui, è una cavolata, sono sempre prove sul D10, tirate quanti dadi avete, e tenete il maggiore, stessa cosa per qualsiasi tipo di danno, tirate tutti i dadi di danno dell'arma, e tenete sempre il maggiore, il regolamento è tutto qui, poi per le prove, invece, viene data una difficoltà, che la difficoltà standard è sempre 6, poi ovviamente, può essere alzato o abbassata, prova facile, magari il master fa, va bene vai, e 3, oppure prova veramente difficile, impossibile, potrebbe essere un 8, un 10, voi cosa fate? c'è da fare una prova di scalata, cosa mi serve? Forza, ok, quanto c'ho? Un D, meno 1, quindi tiro, difficoltà 6, ho fatto 7, meno 1, perché l'elfo c'ha il malus a forza, ho fatto 6, quindi ce l'ho fatta, ho scalato la parete, tutto qui ragazzi, il regolamento del gioco è tutto qui, bestiario, con tutte le creature che potete trovare, la scheda uguale a quella dei giocatori, armatura, vedete salute e tutto quanto, ah, non è un gioco alla D&D, ho ucciso il mostro, quanti punti esperienza ho preso? i punti esperienza che sono i punti avventura, li prendete a fine avventura, a seconda di come avete giocato, e un dungeon master, non dovrebbe mai darne più di 1 o 2, perché è veramente molto facile di passare di livello, e pensate che un avventuriero, che arriva già a 20, 25, 30 al massimo punti avventura, è un po' come un guerriero o un personaggio di D&D, che arriva a livello 20, quindi è veramente una leggenda vivente, spaca tutto, e vedete qui c'è il bestiario, c'è un bel po' di creature, tra l'altro una cosa che mi ha ammazzato, di questi manuali sono i disegni, sono veramente spettacolari, e anche questi fatti nello stile old school, e poi c'è il manuale della barona e del grifone, che più che altro è un manuale bellissimo, sia da ambientazione che di avventure, perché è un manuale da ambientazione, perché vi descrive tutta quanta la mappa dove giocherete, e nel gioco base dell'ultima torcia c'è soltanto la barona e del grifone, ma vi ripeto, qua giù c'è un regno degli elfi, nella foresta buia, ad esempio c'è un regno di goblin, orche e comunque creature, che escano dalle tenebre, qua giù c'è la città del grifone, che è la classica città con i reggenti, infatti la baronessa, ha sede qui a città del barone, a città del grifone, dove è facile fare commercio e cose del genere, poi ad esempio c'è città di porto, che è la zona portuale, ci sono delle montagne impensate da un drago, c'è il picco saetta, che praticamente è la sede, dove sta il più grande stregone, di questa ambientazione qui, poi ad esempio abbiamo la palude, insomma come vedete c'è una specie di monte fatto, l'ambientazione è molto 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 classica, quindi vi potete muovere tranquillamente, in un'ambientazione così, e vi basta veramente, per ambientarci una campagna intera, e anche qui dentro il manuale, poi vi fa tantissimi esempi, e tra l'altro ci sono anche delle avventure, già pronte, che anche questo vi consiglio di giocare, dopo aver giocato all'avventura tutorial, che vi ho fatto vedere per prima, perché questa è una introduzione al gioco, e soprattutto alle regole, però qui ci sono una serie di avventure collegate, che tra l'altro sono molto belline, e vi fanno conoscere bene l'ambientazione, e quando vedete queste note qui, vuol dire che dovete andare sul manuale dei mostri, per vedere che tipo di creatura avrete incontrato, quindi io in conclusione ringrazio Kurt e Moro, grazie veramente di cuore ragazzi, per avermi offerto questa copia qui, per il trattamento che mi avete dato a Luca, quando sono arrivato, e grazie veramente di cuore, è un piacere, e come vi ho detto, e ve lo ripeto anche in video, se ci avete a volte qualcosa in mente, volete fare qualcosa, anche sfruttando il canale, perché no, non vi peritate, tanto l'avete visto, sono alla mano, come voi, quindi non vi peritate, che adesso ci avete bisogno di qualcosa, sono sempre qui. Ragazzi, l'ultima torcia, per me è uno spettacolo, è uno spettacolo, perché intanto i manuali sono piccoli, cioè uno prende questi tre manualetti, li apre, in tre fanno 150 fagine, in tre, uno dice, cioè, poca roba, c'è il mondo dentro, perché la roba è curata veramente bene, l'ambientazione è curata da paura, il bestiario è fatto benissimo, sì è vero, è un gioco, questo l'ammetto, è un gioco che non inventa niente, come regole, sì c'è qualche regolina particolare, però sono cose già viste, quindi, se chi lo compra, si aspetta di trovare qualcosa di prettamente nuovo, originale, non ce lo troverà, ma non è un malus, sia chiaro, perché comunque l'ambientazione è caratterizzata bene, è credibile, soprattutto i disegni sono fatti bene sui manuali, le regole sono spiegate da paura, gli esempi che ci sono dietro, lo stile delle schede è molto bellino, i dadi da utilizzare, però questo è un gioco più old school, cioè questo qui è veramente un regalo fatto da fan, perché loro sono più fan di noi, da nerd, per altri nerd, che con questa roba qui ci sono cresciuta, come me ad esempio, che questa roba qui l'adoro, e per me un prodotto del genere vale molto più di tanti altri prodotti, che hanno avuto 190.000 manuali e 600.000 regole, perché il bello, quando uno va a fare un'avventura, non mi servono 300.000 regole, che poi magari, di quelle 300.000, me ne dodo 3, serve un manuale fatto bene, un regolamento che giri, per quanto semplice, ovviamente anche questo regolamento può avere qualche buco, perché per andare a fare un'azione leggermente più complessa, alla fin fine ve lo dite, è sempre il tiro di un D10, quindi, però, chi se ne frega alla fin fine dei dadi, io avevo creato anni fa, col mio amico Luca, si era creato un sistema, che andava sul rank system, non c'era nemmeno da tirare nulla, ci avevi un certo rank e un'abilità, e a seconda della difficoltà, il master ti diceva, sì ce l'hai fatto, o non ce l'hai fatta, era prettamente una cosa narrativa, quindi non serve avere per forza di cose come il buon, il buon libri game di un tempo ci insegnano, però quello che mi piaceva a me, che speravo di trovare nell'ultima torcia, era un gioco, anche come era confezionato e tutto, ma che mi rimandasse nel passato, perché l'ho letto sul sito, un gioco old school per gli amanti del vecchio D&D, che ci rimanda, ha detto, sì ma saranno parole o sarà la verità, la classica pubblicità ampio fuffa, no? Invece quando già, quando ho visto la scatola, beh, sembrava quella di D&D, parte questa è nera e quella era rossa, poi aperta, ritrovare tutti i manuali fatti in un certo stile, la bustina con i dadi dentro, c'è le schede fatte, perché queste schede qui ragazzi sono dell'anni 80, cioè veramente il primo D&D c'hava una pagina soltanto, già l'advanced, no l'advanced no, ma la terza edizione c'hava la prima pagina, la seconda per l'abilità, la terza per l'equipaggiamento, c'è le dovevi spilla e c'avevi otto schede in mano, che fa dopo un pochino, sì, bello quanto ti pare, poi i talenti, quando vennero fuori gli psionici e tutte le cose, era troppa carne al fuoco, invece questo c'ha la giusta roba, compatta, però spiegata bene, e poi veramente lo stile artistico che hanno usato è veramente stupendo, quindi anche i disegnatori e tutto quanto è impaginato bene, ed è su quei tre manualetti che ti leggi una serie prima di andare a let, che su 150 pagine è poca roba, però che ti spiene subito una voglia di farci un'avventura disumana, quindi l'ultima torcia è un gioco per tutti, perché è un gioco come me per gli amanti del vecchio D&D e dei vecchi GDR, stampo anni 80 o primi 90, oppure anche per le persone nuove che si vogliono introdurre, in questo mondo, perché questo ad esempio è un gioco che ci puoi mettere anche tranquillamente un ragazzino di 10 anni, che di questi giochi non l'ha mai provati, oppure un master navigato, come magari potrei essere io che ho giocato per 20 anni e ho fatto un dungeon master alla mia vita, che cerca qualcosa che lo rimandi nel passato, o anche un dungeon master alle prime armi, che perlomeno non lo fai trovare davanti a un regolamento che altrimenti impazzirebbe. Quindi se le devo dare un voto all'ultima torcia, le do assolutamente 9 su 10, mi è piaciuto veramente da morire, bellissimo, e anzi, se andrà avanti, spero di sì, la collaborazione con la Serpentarium, mi piacerebbe leggere anche i manuali di espansione, che poi vabbè, più che altro sono altre ambientazioni, ho visto che sono tipo lande selvagge, cose varie, c'è neanche una addirittura molto piratesca, basata in mare, mi è piaciuto talmente tanto, che mi piacerebbe ampliare anche su altri varianti, però comunque anche l'ambientazione di base, la barone del grifone vi basta per crearci una campagna intera. Quindi ancora una volta, grazie a Kurt e Moro per avermi offerto questa copia della recensione, ragazzi, veramente bellissimo, trovate in descrizione il primo link dove acquistarlo, comunque i prodotti della Serpentarium vengono venduti anche da Asmodi Italia, comunque trovate il primo link in descrizione dove acquistarlo, e tutti i nostri social. Ancora una volta, grazie alla Serpentarium, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, questo è un gioco che se volete tornare alla vecchia scuola, o riniziare con qualcosa di nuovo, o iniziare per la prima volta, è il gioco perfetto per tutti. Fatemi sapere, ciao alla prossima!